ancora un malore improvviso ed ancora una morte inaspettata antonella cuttini infermiera di 51 anni è morta ieri 12 luglio 2024 mentre come tutti i giorni stava lavorando in un reparto dell'ifo di roma ovvero gli istituti fisioterapici ospitalieri l'infermiera avrebbe accusato un malore durante il turno di lavoro ed ha avuto un infarto che non le ha lasciato scampo sotto shock tutti i colleghi i parenti e anche gli altri infermieri che lavorano negli ospedali della capitale sono intervenuti sindacati dicendo non abbiamo più intenzione di rischiare la nostra vita per tamponare i problemi di gestione del personale laura rita santoro dirigente del sindacato nursing up sottolinea che antonella era al terzo turno di pomeriggio sera era una turnista in ortopedia poi rinunciò e venne in ambulatorio nella piattaforma dove sono anch'io convinta che avrebbe fatto una vita più semplice doveva fare mezza giornata da una parte in cardiologia un'altra parte in sala prelievi dopo tutto questo la collega ci ha messo un attimo a decidere di tornare a fare i turni ma è stata mandata in un altro reparto dal principio mi ha detto il fratello provato non ebbe diritto neanche alle ferie era l'ultima arrivata ieri erano in due in turno lei una delle poche strutturate nel suo reparto secondo il sindacato si tratta di turni estenuanti noi non sappiamo come sono andate le cose però se ascoltiamo il sindacato ci viene da dire e chi dobbiamo ringraziare robertino che ha lasciato a casa tutti i medici che non hanno offerto il braccino che ha lasciato a casa tutti gli infermieri che non hanno offerto il braccino è perché se adesso sono sotto organico un motivo ci sarà anche perché penso che molti delusi da quanto accaduto siano voluti uscire dal mondo della sanità io parlo in prima persona io lavoravo nel mondo della scuola io sono schifato io non ci voglio più mettere piede nel mondo della scuola dopo come sono stati trattati gli insegnanti e quindi io mi metto anche nei panni dei medici sentite condoglianze e un abbraccio ai suoi cari da parte del salotto di mimar voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale grazie a tutti Grazie a tutti.